Buongiorno a tutti. Allora è stata una bellissima diretta col Gigione, è finita quasi alle tre, due e mezza più o meno. Naturalmente li ho fomentati, come direbbe il buon catto, con la Superlega e quattro ore di dibattiti per non arrivare a nulla, ognuno restava della sua idea. La Superlega una figata, la Superlega una cagata. La via di mezzo non c'è stata, ha fatto anche rima. Comunque, bando alle ciance, ciancio alle bande, parliamo di questo campionato di Serie A che a me acchiappa, anche se ci sono il Benevento, c'è lo Spezia, ci sono le cosiddette squadre, c'è il Crotone. Io mi diverto, ragazzi, io vedo calcio, mi divergo. C'è la Serie B, guardo la Serie B, c'era Pordenone contro un'altra squadra, non mi ricordo, dato un'occhiata anche a quello. Si guarda tutto, perché il calcio è bello in generale. Io quando sono in giro, una volta adesso no, perché siamo rintanati come sorci, però se magari vado a buttare il pattume, siccome ho il campetto dell'oratorio dei ragazzi, campo in sintetico da A7 e ci sono dei ragazzini che stanno giocando. Io cinque minuti a dare un occhio, mi fermo perché è sempre bello vedere i ragazzi che giocano a pallone. Io quando vedo un campo di calcio vuoto mi viene il pianto, perché mi ricordo io da piccolino che ero sempre a giocare a calcio, dalla mattina alla sera, quando era estate, che eravamo a casa liberi e felici e tutti i pomeriggi, a meno che non veniva giù il diluvio universale, ero a giocare a pallone, sempre. Anche se il giorno prima aveva piovuto, c'era il campo fangoso, tornavo a casa che facevo schifo perché ero sporco di fango dalla testa ai piedi che mia madre si incazzava come una iena, però io ero a giocare a pallone. Ho giocato a pallone anche con la neve, con il mammut avevamo su, avevamo su il mammut e giocavamo con la neve che ti tuffavi e finivi dentro nella neve, però giocavamo a pallone lo stesso, per divertirci, per il divertimento di giocare a pallone. Detto questo, campionato Serie A, 31esima giornata, partiamo subito con Sampdoria Verona che si apre con la punizione da libidine di Lazovic e poi però Janto, Gabbiadini su rigore, poi Tosby su vaccata di Silvestri che ultimamente, bisogna dire che Silvestri ultimamente qualche paperella qua e là, la sta facendo. Si è rappresentato bene l'anno scorso eccetera, stava facendo un buon campionetto anche quest'anno, un buon campionetto, porca puttana, però ieri quell'uscitina lì su Tosby proprio è andato letteralmente a farfalle e vabbè succede. Comunque Sampdoria Verona 3 a 1, il Verona come si suol dire la data su a 41 punti ormai è sicuro della matematica certezza di andare, di essere salvo. È vero che affronti una Sampdoria che ha 36 punti, quindi è appena dietro di te, però sinceramente non capisco queste continue sconfitte del Verona. Non vorrei che il fatto che hanno già detto che Giuris se ne andrà al Napoli, eccetera eccetera eccetera, le abbiano. E attenzione l'anno prossimo a un Verona che mi va in Serie B e si prende il paracadute, poi torna in Serie A, intanto ha incassato 25 milioni perché ha fatto due anni in A, se non sbaglio. Comunque spero di no, spero che il Verona continui a fare campionati tranquilli come quello di quest'anno. Veniamo a Crotone Udinese dove l'Udinese con gran fatica riesce a partere 2 a 1 al Crotone grazie a Super Depol che poi dopo si è fatto espellere, quindi salterà la prossima o le prossime due, una penso, penso una giornata. Non ho guardato sinceramente le decisioni del giudice sportivo, comunque teoricamente Depol non ci sarà nella prossima, poi non so se gli erano andate uno o due però, la prossima la salta perché ha preso il rosso, però doppietta, gol del vantaggio, spareggia Simi su rigore, ancora Depol, cozione in serpentina e palla di piattino a spiazzare il portiere, 2 a 1 Udinese, altri due punti pesanti verso la salvezza abbastanza inscioltezza. Sassuolo, Fiorentina 3 a 1, la Fiorentina si era illusa col gol di Buonaventura, golasso, passaggio al centro, l'ha controllata sotto l'incrocio e gli ha anche detto al portiere vammela per gli asi ci riesci. Poi dopo due rigori, uno più ridicolo dell'altro, due falli stupidi e Berardi non perdona, anche se il secondo l'ha rischiato. Il primo l'ha messo bello sotto l'incrocio, il secondo palo gol lì è sempre a rischio, basta quel centimetro e lì prende il palo e torna diagonalmente anziché fare pem pem, ti fa pem pem e lo sbagli. E poi Massil Lopez con il tiro chirurgico da fuori aria incrociare verso il fatale angolino e 3 a 1 e poi festeggiamenti su festeggiamenti con botte in testa, anche perché con questa vittoria il Sassuolo si garantisce l'ottavo posto e teoricamente questa Continental Cup che dovrebbero fare l'anno prossimo, sempre se verranno invitati o meno. Non so quante squadre italiane potranno andarci, pare una, quindi l'ottava, però non lo so se sarà solo per i campionati minori e basta o c'entreranno anche le peggiori dei campionati più importanti, vedremo, vedremo, sono curioso di vedere com'è perché per ora ci saranno solo i sorteggioni per poter partecipare, perché poi ci dovrebbero andare anche quelle che non passano i turni di qualificazione eccetera, quindi teoricamente sarebbe un rimpasto delle squadre che già partecipano nei preliminari di Champions League e Europa League, però staremo a vedere. Veniamo a Cagliari-Parma, la partita della morte, la partita della pazzia, la partita in cui succede di tutto, di più ed è quello che ci si aspettava, perché il Parma 1-2, prima Pezzella, poi Kucca sembra aver messo la partita in ghiaccio, poi Pavoletti col Capoccione accorcia le distanze, Mann sembra aver chiuso la questione, Marina accorcia le distanze, 2 a 3, si arriva al novantesimo 2 a 3, poi al 90 più 1 Perera col tirettino a giro da grande libidine fa 3 a 3 e poi Cherry, e se non erro questo è un marchettino piccolino, little little di fabbrica, il colpo di testa la mette per il 4 a 3 finale al 90 più 4 e Beffona per il Parma che a questo punto ha due piedi e mezzo in serie B, a meno che il Benevento o la Fiorentina si addormentano, non fanno più un punto e allora il Parma potrebbe ancora sperare di recuperare, nulla è perduto finché la matematica non te lo dice, nel calcio tutto può accadere, ricordatevelo, anche nel tennis, ho visto partite 6-0, 6-0, 5-4, 3 match point, 5-7, 5-7, 6-7, recuperone dopo essere stati sotto 2-7 a 0 e 3 match point sotto e hanno ribaltata, quindi e nel calcio può succedere. Veniamo alla partita scandalosa, Milan-Genoa, poi qualcuno ha detto che quella partita lì il Milan ha giocato meglio che l'Inter nelle ultime dieci partite, io rispetto tutti però quando ho letto quella cosa lì mi è venuto in mente, veramente mi è venuto in mente il sergente Armand quando c'era il soldato Joker che faceva lo spiritoso, abbiamo un comico, il soldato Joker, non mi è venuta in mente la stessa cosa, però io rispetto tutti, noi giochiamo male, non dici vittorie, un pareggio in dodici partite, però giochiamo male, spero di continuare a giocare così per i prossimi dieci anni, porterò a casa solo lo scudetto, mi accontento, tanto adesso fanno superlega, megalega, isterica lega eccetera, ma tanto chi deve vincere, chi ha il denaro pesante, sono sempre le stesse, tu ne prendi 350, ci sarà sempre quella che ne avrà 1000, tu ne prendi 1000, ci sarà quella che ne avrà 2000, non c'è speranza, bisogna saper acquistare in maniera intelligente, prendere gli allenatori bravi e si può vincere lo stesso senza avere i campioni, lo continuerò a dire però, altrimenti il Paris Saint Germain avrebbe già dovuto avere cinque champions, non ne ha neanche uno, eppure è quella che spende di più, è quella che crea teoricamente i palloni d'oro, i campioni, Lorenzo è esaltatissimo, vedremo. Comunque Milan Genoa 2 a 1, gol di Rebic libidile, pareggia destro con un colpo di testa di furbizia perché praticamente si inserisce, si butta da fuori area, dentro l'area e va in anticipo su tutti i difensori cuccandoli e poi c'è l'autogollonso che più autogollonso non si può con Scamacca che vede tre persone che gli saltano davanti e si mette lì così spaventato come un bambino dell'asilo che ha visto il mostro Bawau, la palla gli picchia sul coppino e termina in porta. Io sinceramente quando vedo i giocatori che sul calcio di posizione si girano, giocatori che vanno incontro al giocatore avversario, vedono che sta tirando e si girano. Io mi incazzo, non giocare a calcio, se hai paura del pallone o di prenderti una pallonata non giocare a calcio, cambia sport. Vai a giocare a briscola, scopa, 3-7 eccetera. Veniamo ad Atalanta, Juventus, Opbac, partita da 0-0, qualche occasioncella da una parte e dall'altra, purtroppo ho visto solo il gol di Malinowski, purtroppo non ho avuto il piacere di vederla, però ogni tanto giravo su occasioni da gol, occasioni da gol, c'era un tiro in porta, 0-0, 1-0, 1-1. Il gol arriva su un tiro di Malinowski deviato da un giocatore della Juve che mi sembra sia McKennie ma forse mi sbaglio. Comunque lo prende in pieno petto, la palla si sposta dall'altra parte, Cesni c'era già buttato e rimane come un Pinocchietto, all'86esimo per di più, quindi Gollonzo. Cambia poco eh ragazzi, cambia poco, tanto arrivare ai secondi o terzi sono solo questioni di soldini. Sì certo c'è il Milan a 66 da andare a prendere, però se giocano come con il Genoa non so dove vogliono andare. Poi adesso qualcuno mi dirà l'Inter gioca peggio, va bene, però l'Inter segna, l'Inter fa i punti facendo anche qualche bella azione eccetera e poi non gli segnano, non li prende i gol. Se lo deve fare da solo il gol, come un pingone, perché sennò non manco gli segnano. E anche ieri che la squadra che gioca male eccetera, due pali, due volte il giocatore davanti al portiere che non tira perché deve mettere il compagno in porta eccetera eccetera eccetera. Certo c'è anche un palo per il Napoli e un gol, un autogollonzo. E poi un colpo di testa uscito di tanto così, però tutto lì eh, tutto lì. Bologna spese a 4 a 1, si inizia subito con un fallo di mano. Che uno vede il tuo giocatore che è lì che corre, gli sbatte la palla sotto l'ascella, ma stare con la manina dietro, vedi che arriva la palla, non metterti così da yuppidù o da un nuotatore. Metti la manina dietro, tieni le mani attaccate, vai col pettuccio, ma è vero che poi ti possono dare anche il fallo di tetta, però teoricamente se vai con le braccine belle vicino al corpo il rigore non te lo fischiano. Comunque, rigore per il Bologna, Orsolini al bacio, rigore perfetto, 1 a 0. Poi c'è il regalone per Barro per il 2 a 0 di Scouten, se non sbaglio, se non sbaglio, se non ricordo male, a meno che non era un'altra squadra, ma mi sembra sia Scouten per Sbarro. Accorcia le distanze, lo spezia con Ismaili, e poi c'è la doppietta di Sbarber su due dormitone della difesa, lui volta il colpo di testa era avvicinato, ma veramente il secondo gol è ridicolo. Corner sul secondo palo, tutti che guardano il pallone che arriva e lui che, puff, sul secondo palo, bello appostato, felice con una Pasqua, la mette dentro. 4 a 1 e ciao ciao, Spezia. Torino-Roma, ecco, questa è la partita che non mi aspettavo, perché la Roma passa in vantaggio con Majoral, quindi dico, vabbè, la Roma, tre punticini quasi in tasca, male che vada, finisce 1 a 1. E invece no, perché prima Sanabria di testa, poi Zaza su tiro di Belotti, e Belotti c'entra sempre, nel secondo e nel terzo gol è lui, è lui l'anima della squadra, perché sul primo gol è lui che tira, il portiere respinge, Zaza deve solo spingerla indietro, in rete. Dell'altro è lui che si butta in aria rubando il pallone a Fazio, che è lì come un Pinocchio, farsi uccellare e portare via la palla. Poi mentre lo stanno per rimontare, in scivolata, gliela mette lì a Rincon, è uscito incontro al portiere, il difensore stava arrivando, lui in scivolata, tac, passaggio a Rincon, porta vuota, e Rincon, possono vedere solo appoggiarla dentro. 3 a 1 e ciao ciao Roma, ma soprattutto ciao ciao, classificao. E concludiamo con Lazio-Benevento la partita folle, perché la Lazio passa in vantaggio, De Paoli, immobile, Correa, sono 3 a 1, segna Sao, un gol da Grande Libinio e tiro a giro tanta roba. Poi ancora Correa, un cross in mezzo, il povero Montipò, perché poverino, lui è entrato in aria, era a pochi metri dalla porta, cross basso, Montipò è lì con le gambe larghe, la palla gli passerebbe in mezzo alle gambe, invece tocca una delle, mi sembra la caviglia sinistra, e termina in rete, quindi sfigatissimo. 4 a 1, sembra finita, uno dice, vabbè ormai è finita, e invece poi segnano anche Violegli, che si va sul 4 a 3, e infine ci vuole il gol di Immobile al 96esimo minuto, quando ormai la partita era finita, in contropiede, che fa il 5 a 3. quindi Filippucci in Zaghi ha perso anche con Simonucci in Zaghi, 5 a 3, ma è normale perché il Benevento non è la Lazio. Andiamo a vedere la classifica Aou, 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 perché l'Inter ha 75 punti, più 9 sul Milan che ha 66, però il Milan si deve guardare alle spalle perché ha l'Atalanta a 64, la Juventus a 62, il Napoli a 60 e la Lazio a 58. Io credo che queste sei squadre si giocheranno i tre posti per la Champions oramai. La Roma la vedo ormai spacciata a 54, cominciano a essere troppi, 8 punti sulla quarta, 7 giornate dalla fine. Poi abbiamo il Sassuola a 46, bello tranquillo, più 5 sul Verona, che vedremo se verrà pescato per partecipare appunto a questa Continental Cup o comunque si toglie la soddisfazione di essere tra le prime otto, che significa avere l'accesso diretto agli ottavi di Coppa Italia, non dover fare il preliminare che è sempre un pericolo fare lo pseudo altro ottavo con le squadre che arrivano dalla B o dalla stessa Serie A, che per ora è non opposta del Verona. Quindi abbiamo la Sampdoria a 39, decima, ottima stagione anche per la Sam. Ranieri sembra che voglia restare a Genova, sponda blu cerchiata, e penso che possa fare bene anche perché è in un ambiente tranquillo in cui non gli chiedono la luna e quindi credo che Ranieri con la Sampdoria possa arrivare sempre tra l'undicesimo e il nono posto tranquillamente. Il Bologna a 37, ecco, il Bologna è una squadra che vorrebbe fare il saltino di qualità e puntare ad arrivare al livello di Roma, Lazio e Napoli, per intenderci, però è abbastanza utopistica la cosa. L'Udinese quest'anno sta facendo un buon campionato per le sue solite qualità, chiamiamole così, perché di solito l'Udinese è sempre lì in bilico, tra il quintultimo e il sestultimo posto, è sempre di appena sopra al livello di serie B, per intenderci, e arriva a salvarsi sempre con una o due giornate di anticipo, non di più. Invece quest'anno potrebbe chiuderla forse con tre, quattro giornate, anche quattro. Detto questo, sotto l'Udinese ci sono tutte le squadre che sono ancora a rischio, quindi lo Genoa che ha 32, lo Spezia che ha 32, Torino, Fiorentina e Veneto a 30. In serie B in questo momento andrebbero il Cagliari a 25, il Parma a 20 e il Crotone a 15. Mancano sette partite, ci sono ancora 21 punti disponibili, tutto può ancora accadere, io sinceramente il Cagliari non lo do ancora per spacciato, vedremo cosa succederà, dipenderà anche molto dal calendario, dipenderà da tante cose, la Fiorentina ha un calendario bastardissimo, il Benevento non l'ho guardato, ma leggendo quello che diceva Catto sul calendario della Viola è tosto, 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 ma proprio tosto, perché deve affrontare un sacco di squadre che lottano per la Champions e poi le altre sono tutti scontri diretti e ha poche partite in cui devi affrontare la squadretta che magari può entrare in campo con meno cazzimma, ma tanto entrano tutte con cazzimma, quindi è sempre un problema. Il Crotone ormai sta facendo, sta onorando il campionato, segnando in tutte le partite, facendo godere gli scommettitori, che si giocano il gol su tutte le partite del Crotone e vanno sul sicuro, pagherà poco, però c'è la soddisfazione che... scusate, c'è un pelucco, eliminiamo il pelucco e andiamo sullo Sport Week per vedere la prossima giornata, che è quella di già da stasera, è che c'è un Verona-Fiorentina subito, come dicevo, bello tosto, anche perché il Verona si sarà rotto anche un po' le palle di perdere sempre, quindi mi sa che non regalerà una beata Giovanna e quindi per la Fiorentina sarà già dura sta partita di questa sera. Comunque siamo alla dodicesima giornata e abbiamo Lazio-Benevento, come dicevo prima, Lazio-Benevento, già lì il Benevento, ah no, Lazio-Benevento era del... era di settimana scorsa, allora era la dodicesima, ho sbagliato, non era l'undicesima, era la dodicesima, attenzione, mi sono sbagliato, è la dodicesima giornata, siamo alla tredicesima, ne mancano 7, 13, 14, quindi 16, 17 e 18, ne mancherebbero 6. Ah no, giusto, era la trentunesima, dodicesima di ritorno, sono 19 partite, giusto, dodicesima, trentunesima di ritorno, allora, adesso dobbiamo fare la trentaduesima, e abbiamo subito un bel, Roma-Atalanta, libidine, Genoa-Benevento, doppia libidine, Udinese-Cagliari, grandissima libidine, Verona-Fiorentina, che appunto si gioca questa sera, Spezia-Inter, e poi abbiamo un Napoli-Lazio, che qui è la partita della morte, signori miei, chi perde, mi sa che saluta, il Trump per la Champions, soprattutto se dovesse perdere il Napoli, perché la Lazio ha la fortuna, di dover rigiocare la partita col Torino, e sulla carta, quelli sono tre punti extra, che la Lazio può prendere, e quindi recupererebbe, qualora dovesse perdere col Napoli, se perde il Napoli, e la Lazio ha anche tre punti supplementari, la Lazio, attenzione, diventa la mina vagante per, Atalanta, Juventus e Milan, attenzione, Poi abbiamo un Crotone-Sandoria, che spero regalino, una bella partita, perché non hanno più nulla da chiedere al campionato, quindi mi auguro, entrano in campo sbarazzini, se la giochino, senza stare lì a pensarci troppo, il Crotone ormai se le gioca tutte, e la Sandoria, magari vorrà fare la sua bella figura, poi c'è un Milan-Sansuolo, che è molto pericoloso per il Milan, anche se lo danno strafavorito, è strafavorito il Milan solo in questa partita, e infine un Bologna-Torino, che per il Torino diventa un'ultima spiaggia, e attenzione che qua potrebbe uscire un biscottone da pareggio, anche perché il Bologna ormai è lì tranquillo a 37, un pareggio gli potrebbe andare più che bene, ma non credo che il Bologna giocherà per il pareggio, visto che è considerato che con tre punti si porterebbe a 40, che è la quota salvezza per stare tranquilli, anche perché andrebbe praticamente a più 15 sul Cagliari, a meno che il Cagliari non va a vincere, se no è a più 12, più 12 a sei giornate dalla fine sei direi salvo. Quindi è una giornata infrasettimanale da grande libidine, ci sono tante partite interessanti, e attenzione che, visto che ci prendevano per i fondelli, il sorpasso è arrivato, il sorpasso è arrivato, perché l'Atalanta, vediamo che il Milan non batta al sassuolo, come i bookmaker dichiarano, potrebbe fare il soppassone al Milan, però Roma-Atalanta è una partita da tripla, attenzione, sulla carta, visto che la Roma non ne vince una con le big, prima o poi ne vincerà una, ma probabilmente la vincerà con l'Inter, ve lo dico subito, probabilmente Inter-Roma vincerà la Roma, ma noi avremo già in tasca lo Scudetto, quindi non ce ne potrà fregare meno, e quindi proprio per quello saranno in estasi da festeggiamento Scudetto, e quindi già mi immagino Inter-Roma se avessimo già in mano lo Scudetto, è un 2 fisso, non tenetene conto, anche se temo che alla Roma servirà poco, perché è troppo troppo indietro, e credo che tutto quello che ha ancora da dare lo butterà in campo in Europa League per cercare di portarla a casa. Cosa che mi auguro, perché è una gioia ogni tanto a questi poveri disgraziati, lasciamogliela, so che i laziali non sarebbero tanto d'accordo, però io non ce l'ho su con la Roma, quindi io le uniche due squadre che devono rimanere sempre con zero titoli, as soon as possible, no, non as soon as possible, for a long time, per molto tempo, sono sempre le solite due note, Milan e Juve, le altre possono vincere quello che vogliono, che sono contento, ecco, ma Milan e Juve meno vincono, e più io godo, se poi vinco io e loro no, è ancora più bello, poi dopo se la Coppa Italia la vince l'Atalanta, l'Europa League la vince la Roma, ma ben venga, ma che cose belle, se è meglio la Lazio, se vince la Lazio, però se vincono Atalanta e Roma non mi cambia assolutamente la vita, anzi sono contento per loro, detto questo ragazzoni, io vi saluto, vi ringrazio che mi sono dilungato troppo, e ci vediamo alla prossima, ciao!